Lunedì 31 ottobre alle 21.20 ripartirà la seconda stagione di Check Up Obiettivo Salute. Un appuntamento interessantissimo realizzato da Rossini TV grazie alla collaborazione con Fisioradi Medical Center. Di cosa si tratta? Si tratta di incontri, staremo insieme diversi mesi, incontri tutti lunedì sera con medici, fesioterapisti che collaborano con la struttura di Vismara e affronteremo ogni volta dei temi di salute davvero molto interessanti, soprattutto spiegati in maniera molto semplice e fruibile da tutti perché la salute, come sappiamo, è alla base di un benessere sociale, di un benessere personale fondamentale per tutti noi, quindi riuscire a capire come stare meglio è sicuramente molto molto importante.